L'azienda agricola Bosco dei Medici ha realizzato un progetto di ricostruzione di un vigneto antico con i modi della Pompei di prima dell'eruzione del 79 d.C. In che modo? Sì, abbiamo questa proprietà che proprio si trova a ridosso degli scavi, alle spalle del santuario di Pompei, e quindi abbiamo voluto progettare, perché adesso siamo ancora in fase progettuale, il vigneto è stato appena impiantato, questo piccolo vigneto, utilizzando appunto vino piedi rosso e coda di volpe, con le tecniche che risalgono grossomodo a quel periodo, quindi con la distanza fra i filari di 1,20 m per 1,20 m, con le potature, con la vigna spalliera, quindi tutte le caratteristiche che più o meno rispecchiano praticamente le caratteristiche dell'epoca. Richiare un vino vero e proprio romano non si può, perché semplicemente era un vino fatto con i mezzi dell'epoca che adesso sarebbe praticamente imbevibile, però lo allungavano, lo speziavano, lo sofisticavano, diciamo adesso, e quindi non è possibile. Però si possono conservare queste indicazioni che già all'epoca venivano utilizzate anche nella vinificazione, come ad esempio interrare i dolia, che erano i contenitori dove veniva messo il vino, per mantenere la temperatura fresca, è una cosa che si fa tuttora nella vinificazione con il controllo della temperatura, oppure loro indicavano sui vasi già la provenienza, con la data, ci tenevano molto alla nata del vino, invecchiavano i vini più prestigiosi, più nobili, quindi sono cose che tuttora facciamo, ma che insomma ripercorrono anche quello che è la nostra legislatura legata alle DOC, all'IGT, quindi alla provenienza del vino. È un progetto che speriamo possa avere un buon riscontro, soprattutto perché permette poi di fare delle visite e quindi di degustare il vino, ma anche di vedere la zona, di poter fare insomma delle visite didattiche legate appunto al vino e anche alla storia, quindi al vino romano e come loro lo vivevano, perché il vino era il centro della vita dei romani in tutti i sensi, insomma dagli aspetti religiosi a quelli che erano poi quelli della vita quotidiana. È collegato insomma anche a un'attività didattica, almeno in potenziale, rispetto a questo vigneto. Sì, sicuramente con un flusso di turisti poi diretto e quindi sì, attività didattica che si è legata appunto a quelle che sono le tecniche di coltivazione dell'epoca, quindi a spiegare un pochettino come il vigneto veniva allevato, come veniva poi vinificata, fatta la vendemmia, vinificato il vino e infine poi insomma sì, un po' di descrizione del prodotto, ripeto, non può essere il prodotto dell'epoca perché non riusciremo neanche a verlo.